Musica Potrebbe essere stata la causa che ha portato questa mattina a Termoli al decesso di un camionista polacco ritrovato nella zona industriale. Epilogo tragico per una paziente larinese deceduta all'ospedale Santimoteo di Termoli dopo un aneurisma cerebrale, il terzo caso in pochi mesi nel centrofrentano. Un ampio fronte della maggioranza di centrodestra alla regione molise ha avviato una discussione politica sulla crisi del governo guidato da Donato Toma. A Umberti dei Numbria dopo tredici successi consecutivi la Magnolia a Campobasso conosce la prima sconfitta nella pallacanestro di A2. Gentili telespettatori buon pomeriggio e benvenuti a una nuova edizione del nostro telegiornale. Lo avete sentito dai titoli. Apriamo con la cronaca e con il dramma che si è compiuto questa mattina al nucleo industriale di Termoli. Un camionista di nazionalità polacca è stato trovato privo di vita. Le indagini dei carabinieri sono partite e sono in corso, ma vediamo il servizio. Sono in corso le indagini delle forze dell'ordine per risalire all'esatta causa del decesso del camionista polacco avvenuto nelle prime ore del mattino in un piazzale della zona industriale di Termoli. L'uomo a 50 anni è stato trovato senza vita nel vano motrice di un pesante tir. Inutili i tentativi di strapparlo alla morte da parte del personale medico giunto in soccorso sul posto. Dalle prime ricostruzioni le ipotesi più attendibili sono quelle di una intossicazione da monossido di carbonio, spirigionatosi all'interno del mezzo dall'impianto di riscaldamento, o di un difetto di un piccolo fornello rimasto acceso per roviare al freddo pungente della notte in riva all'Adriatico. Il camionista si era fermato nell'area di rivolta del Re, probabilmente per scaricare merce ad un'azienda industriale della zona e ripartire nella giornata di oggi, ma non ha fatto i conti con le temperature impicchiate sotto lo zero, sopraggiunte dalla perturbazione che ha interessato tutta la regione in questi primi giorni dell'anno. Ci occupiamo ora delle precipitazioni nevose che sono riprese dalla mattina odierna, cadute in particolare sulle cime montuose del Molise, un peggioramento generale delle condizioni climatiche in regione, ma sono stati pochi centimetri di coltre bianca caduti al suolo. Le strade provinciali e statali sono tutte libere per il lavoro delle scorse ore, un lavoro compiuto dai mezzi spartineve e spargisale. Causa il maltempo d'inizio anno, scuole chiuse questa mattina in 26 comuni delle due province. I sindaci attendono l'evolversi del quadro climatico per eventuali nuove ordinanze di chiusura degli edifici scolastici. Il piano neve in provincia di Isernia ha previsto una spesa di 1.160.000 euro e oltre 70 mezzi in campo per coprire quattro nuclei e 52 comuni dell'Alto Molise. A questo si aggiunge una centralina per il telecontrollo satellitare per poter spostare in tempo reale dalle singole postazioni. Gli operatori, a seconda delle emergenze, nelle ultime ore i mezzi spartineve hanno riaperto la strada provinciale 86 tra Agnone, Castiglione e Messermarino, la provinciale Monte Sangrina, la Capracotta Bivio di Staffoli e la Capracotta Guado Liscia, tutte chiuse al traffico a causa della neve degli ultimi giorni. E ancora numerosi gli interventi dei vigili del fuoco nell'intero territorio della regione nonostante l'attenuazione delle condizioni meteo nella zona dell'Alto Molise sono stati impegnati per rimuovere le pericolose stalattiti di ghiaccio dai tetti e per rifornire d'acqua e vivere i residenti di alcune frazioni isolate che hanno avuto le condutture idriche ghiacciate. E ora ci occupiamo di sanità. Un ennesimo epilogo tragico in basso Molise di un paziente e una paziente tempo dipendente, vittima dell'assenza di un'adeguata rete di emergenza urgenza sul territorio si tratta della 57enne di Larino Angela Caporicci e la terza vittima registrata nel centro frentano in pochi mesi. Vediamo il servizio. Mentre la classe politica che governa la regione ha le prese con il triste teatrino delle trattative interne per rinsaldare a soli sette mesi dall'inizio del mandato l'unità di una coalizione che somiglia tanto a un'armata a Branca Leone i molisani continuano a fare i conti con la realtà di una regione dove quasi giornalmente si muore per carenza di servizi sanitari sul territorio. L'ultimo caso in ordine di tempo ha riguardato una donna 57enne di Larino Angela Caporicci deceduta in seguita da neurisma cerebrale, la morte sopraggiunta dopo l'arrivo dei soccorsi e l'inutile trasporto all'ospedale di Termoli, struttura sanitaria sprovvista di un reparto di neurochirurgia. Ieri in cattedrale a Larino i funerali della donna i cui organi per volontà della famiglia sono stati donati subito dopo il decesso. Solo a Larino così come ricordato da Carolina Mancini a nome del comitato civico frentano si è trattato del terzo caso dallo scorso luglio di paziente tempo dipendente vittima di accidente neurologico con epilogo tragico e con un bilancio che parla chiaro, due morti e un coma irreversibile. Fatale si dirà è stato il destino ma è anche l'assenza più volte denunciata in questi mesi di un'adeguata rete di emergenza urgenza che presupporrebbe la presenza sul territorio di un servizio pubblico di elisoccorso oltre che di un reparto di neurochirurgia d'urgenza che oggi non è presente in nessun ospedale pubblico in Molise. Una vera e propria sciagura determinata dall'approvazione e dall'entrata in vigore del piano operativo sanitario voluto dall'ex governatore e commissario ad acta alla sanità Paolo Di Laura Frattura. Un piano che in nome di meri calcoli ragionieristici ha gettato i molisani nella paura e li ha spogliati del sacrosanto diritto di cittadinanza. La domanda che rivolgiamo ai rappresentanti delle istituzioni delegati dal popolo molisano a rappresentarli è semplice. Quante altre vite umane dovranno essere sacrificate prima che ci si renda conto che la sanità è un diritto fondamentale che va garantito a tutti, a prescindere dall'entità demografica di una regione. Davanti al dolore e al dramma quotidiano che vive chi perde un familiare non servono più parole e proclami ma è necessario agire e dare risposte. Restiamo sulla cronaca. Deve rispondere di maltrattamenti continuati a danno della moglie il pensionato di Sepino. Il provvedimento di allontanamento dall'abitazione familiare è stato disposto a carico del 68enne dal Tribunale di Campobasso ed eseguito dai carabinieri. La denuncia è partita dalla donna, dalla moglie, dell'uomo accusato stanca di subire per anni sopprusi e violenze all'interno delle mura domestiche. E ora passiamo alla politica. La decisione del Presidente Donato Toma di revocare le deleghe a tutti gli assessori della sua giunta ha aperto un ampio fronte di confronto e di discussione tra i consiglieri di maggioranza appartenenti alle organizzazioni politiche che sostengono la coalizione di centrodestra. Vediamo. Il Presidente Donato Toma chiede alle forze politiche e ai consiglieri regionali di maggioranza un chiarimento complessivo perché si possa procedere tutti insieme nel governo e nella gestione della Regione Molise, un territorio che necessita della massima unità e non certo delle divisioni interne che ne decreterebbero ritardi immensi e lontananze effettive da ogni possibilità di sviluppo. Così, in attesa di una riunione collettiva chiarificatrice e magari colma di nuovi impulsi, incassa il sostegno e il plauso di numerosi assessori, consiglieri e responsabili delle forze politiche che hanno vinto le ultime elezioni regionali. Inizia il Presidente del Consiglio, Salvatore Micone, che ricorda come la dialettica e il confronto fra le forze e i rappresentanti politici siano la caratterizzazione della democrazia e si dice fiducioso e certo che il Presidente Toma, insieme alla maggioranza, dia inizio ad un nuovo confronto politico e democratico, costruttivo e partecipato, capace di apportare preziosi contributi per il bene del Molise. Segue Forza Italia con il suo coordinatore regionale, l'On. Anna Elsa Tartaglione, gli assessori regionali Nicola Cavaliere e Roberto Di Baggio e i consiglieri Armantino De Giglio e Nicola Eugenio Romagnuolo, che affermano come ci sia stato un lavoro di squadra che ha portato alla splendida e larga vittoria del 22 aprile e al profiguo rapporto di collaborazione in questi primi mesi di legislatura, chiedendo così di proseguire nel percorso appena iniziato. Anche i popolari per l'Italia intervengono con l'assessore Vincenzo Niro, il capogruppo Andrea Di Lucente e il consigliere Antonio Tedeschi ed auspicano come la revoca delle dele che possa servire a determinare chi effettivamente all'interno del Consiglio regionale è in linea con l'azione di governo. Quasi identica la posizione dei consiglieri di Orgoglio Molise che, sostenendo l'azione del Presidente Toma, richiamano alla serietà, al lavoro, alla lealtà e che rappresentano le doti che mettono a disposizione dei percorsi odierni e futuri delle sue linee programmatiche. Qualche sottolineatura invece si registra nel documento del coordinatore regionale della Lega, l'assessore Luigi Mazzuto, che afferma il suo partito non si scandalizza rispetto al cambio di passo richiesto, ricordando che gli obiettivi non sono le elezioni del 2023, ma una sistemica ripresa economica e sociale per le future generazioni. Per completare il quadro, l'intervento abbastanza critico del capogruppo della Lega in Consiglio, Aila Romagnuolo. La mia elezione nella Lega è stata certificata dai cittadini molisani, facendomi risultare la prima eletta della lista. La mia elezione ha consentito allo stesso Toma di essere eletto. Rispondo esclusivamente ai molisani e a Matteo Salvini in primis, non al centrodestra o al Presidente della Regione, se assumono iniziative che leggo sulla stampa o che non condivido o che danneggiano i molisani e il molise. Ci attendiamo che in conferenza delle Regioni si arrivi quanto prima possibile al riparto dei fondi per procedere a derogare l'ulteriore periodo di cassa integrazione ai dipendenti della GAM di Boiano e la mobilità in deroga ai lavoratori della ITR, quanto dichiarato dal Presidente della Regione Donato Toma, dopo che il numero uno della conferenza delle Regioni, Stefano Bonaccini ha inviato una lettera al Ministro del Lavoro Luigi Di Maio per chiedere un aumento delle risorse destinate agli ammortizzatori sociali nelle aree di crisi per tutto il 2019, considerato che appaiono insufficienti quelle messe a disposizione nella legge di bilancio. E la sezione molisana del Partito Comunista dei Lavoratori fa appello a tutti i sindaci del territorio regionale ad unirsi alle azioni di numerosi altri sindaci che criticano e controlla contestano le norme del cosiddetto decreto sicurezza voluto dal Ministro dell'Interno Matteo Salvini. Per gli esponenti comunisti letteralmente si tratta di fermare un crimine sociale ispirato dalle stesse idiozie razziste su cui si basavano le vergognose leggi del 1938 emanate dal regime criminale di Mussolini. E l'ultimo sequestro di carne è privo del marchio di origine effettuato dai carabinieri forestali della compagnia di Venafro ripropone di nuovo l'importanza della tracciabilità dei prodotti a tutela della salute dei consumatori. La mancanza della marchiatura di macellazione impedisce l'identificazione sia della salubrità del capo sia della sua provenienza. Gli allevatori invitano quindi i consumatori a fare attenzione alla provenienza dei prodotti alimentari e prediligendo quelli a chilometro zero. Andiamo al comune di Campobasso dove la crisi politica che ha colpito la maggioranza di centrosinistra non ha ancora avuto alcuna soluzione. Il sindaco Antonio Battista tenta la strada dell'unità della coalizione ma non tutti gli assessori sono pronti a riconfermargli la fiducia. Vediamo. In settimana il sindaco di Campobasso Antonio Battista dovrebbe ufficializzare i nomi dei componenti della giunta di Palazzo San Giorgio con le relative deleghe assegnate ad ognuno di loro dopo l'azzeramento motivato dal primo cittadino il cui mandato è ormai scadenza con l'obiettivo di fare chiarezza sulla lealtà al centrosinistra dei singoli assessori. Il sindaco che non ha mai fatto mistero di voler riprovare la scalata al vertice del comune e capoluogo di regione punta ad ottenere da ognuno degli assessori la firma in calce al documento di lealtà la coalizione in virtù del lavoro portato avanti nel corso del mandato documento che dovrebbe peraltro diventare di dominio pubblico. Secondo indiscrezioni alla nota avrebbero dato la loro adesione buona parte degli assessori. Tra i contrari ci sarebbe invece Salvatore Colagiovanni il quale avrebbe già preso accordi con il centrodestra anche se lui nega in vista delle imminenti elezioni comunali e non ci sarebbe da stupirsi visto il trascorso politico dello stesso Colagiovanni che nel 2014 proprio Battista volle nella sua squadra pur di vincere le elezioni e assicurarsi lo scranno più alto di Palazzo San Giorgio. Con ogni probabilità la frattura tra il sindaco e colui che per quattro anni e mezzo ha ricoperto l'incarico di assessore al commercio alle attività produttive è destinata a non ricomporsi tanto che tra i due ormai non ci sarebbe dialogo da giorni. Colagiovanni che non appare per nulla intenzionata a riconfermare la fiducia al primo cittadino chiede una verifica politica del lavoro fin qui svolto dai componenti dell'esecutivo presupposti questi che lasciano presagire un'area di tempesta sulla maggioranza di centrosinistra ormai condannata a tirare a campare fino a scadenza mandato. Restiamo sulla politica e sul comune di Campobasso riconnettere il partito democratico con i volti le attese l'immaginario e i diritti delle persone. Questo l'obiettivo di Nicola Zingaretti candidato alla segreteria nazionale del PD alla cui mozione ha aderito anche la vice sindaca di Campobasso Bibiana Chierchia. Un'adesione che la Chierchia motiva con l'intento di ricostruire anche in Molise un'unità fondata sui valori e sulla condivisione di un'azione politica di contrasto al governo regionale di centrodestra. Il Molise, parliamo ora di ambiente, ha fatto notevoli passi in avanti nella raccolta differenziata dei rifiuti. Nella popolazione c'è oggi maggiore senso civico, la raccolta dei rifiuti differenziati è infatti in continuo aumento. Vediamo. L'Italia in questo momento si pone i primi posti in Europa per la raccolta differenziata dei rifiuti. Affare da traino nel paese sono soprattutto le realtà del settentrione Veneto in testa, determinante il ruolo delle istituzioni scolastiche. Negli ultimi anni nel Molise è cresciuta la percentuale di raccolta, di pari passo alla crescita della sensibilità in materia ambientale da parte dei cittadini. La coscienza civica in Italia è stata creata. Perché la raccolta differenziata porta a porta sensibilizza molto i cittadini. Mentre nel nord Europa i sistemi di raccolta differenziata sono a metà. Una parte te la vengono a raccogliere, un'altra parte la conferisci tu liberamente nelle campane o comunque nelle varie possibilità che ci sono. In Italia invece si è educati i cittadini conferendogli l'onore e l'onere dei mastelli privati, dei contenitori porta a porta. E questo magicamente quasi ha responsabilizzato molto i cittadini. Infatti l'Italia è da quest'anno uno dei comuni europei dove è più alto il tasso di raccolta differenziata. Chiaramente in Italia su 8 mila comuni italiani ne sono partiti 6 mila. Molti si stanno avviando in tutto il resto dell'Italia, soprattutto nel sud. Abbiamo anche qui un doppio traino. C'è il nord all'avanguardia, come il Veneto, dove la raccolta differenziata, la quantità di rifiuto secco residuo che un cittadino veneto produce è molto bassa, sotto la soglia dei 50 kg che è un obiettivo molto importante. Nel sud c'è ancora tanto da fare, ma ci sono anche delle ottime eccellenze, ci sono ancora alcuni comuni che devono avviare. Tutto sommato l'Italia con questo metodo, con questo sistema della raccolta differenziata porta a porta e dei centri di raccolta comunali, ha strutturato un ottimo sistema. Ricorre oggi la giornata nazionale della bandiera italiana, istituita nel 1998 con apposito provvedimento legislativo. Nell'occasione il Presidente del Consiglio regionale, Salvatore Micone, ha sottolineato come la commemorazione di questo giorno. Inviti cittadini ed istituzioni a riscoprire il gusto di custodire ed esporre nei momenti importanti della Repubblica il simbolo del tricolore. È una notizia di cultura buoni e significativi, dati registrati in chiusura della mostra Il Segno e il Colore, dedicata all'opera dell'artista molisano e di Campobasso il maestro Amedeo Trivisonno. In poco meno di un mese e mezzo sono stati oltre 2.500 i visitatori, a dimostrazione dell'ottima iniziativa della Fondazione Molise Cultura che ha scelto la valorizzazione di una figura fondamentale per l'arte e la cultura regionale e non solo. Ed ora è il momento di vedere le previsioni del tempo. Nuova ondata di maltempo e cielo coperto oggi sulle zone interne del Molise, condizioni climatiche e miglioramento dalla sera. Le temperature odierne sono comprese tra i meno 2 gradi a Campobasso e la massima di 8 a Termoli, venti settentrionali, mosso l'Adriatico centrale, valori atmosferici in rialzo domattina sulla regione, venti occidentali e cielo soleggiato. Siamo come di consueto alla pagina sportiva. Iniziamo dal basket, in particolare dalla palla canestro femminile di A2. Dopo 13 vittorie consecutive, la Magnoli a Campobasso è costretta ad arrendersi al cospetto del quintetto Umbro dell'Umbertide. 60-57 il punteggio in favore delle padrone di casa del tecnico Contu. Sabato 12 al giro di Boa ci sarà un'altra Umbra sulla strada delle Rosso-Blu Molisane. Al palazzetto del Vazieri scenderà l'Azzurra Orvieto, penultima del girone con appena 6 punti in classifica. Nonostante la sconfitta, la Magnolia mantiene però 4 punti di vantaggio sulle immediate inseguitrici Palermo e La Spezia, rispettivamente a quota 22 punti. E siamo ora al calcio, siamo alla Serie T dove si è giocata la prima giornata del girone di ritorno del girone F ferme. Causa maltempo le tre formazioni molisane, ma vediamo i risultati e la nuova classifica. Punti Matelica 40, San Giustese, Re Canatese, Pineto e San Nicolò Notaresco a 33 punti, Francavilla 31, Montegiorgio e Vastese 26, San Maurese 25 punti, Savignanese, Real Giuliano a 24, Sant'Arcangelo e Campobasso 21, Iesina 20, Forlì 19, Avezzano 18, Olimpia Agnonese Isernia 17 punti, chiude il Castelfidardo a 12. Siamo ora alla pallavolo, nella Serie B1 femminile, la capolista Santa Teresa esce sonoramente battuta in casa dell'Isernia. Netto il 3 a 0, inflitto dalle pentre al sestetto siciliano in una gara quasi impeccabile. Sabato 12 le molisane scenderanno in trasferta a Bari, in classifica l'Aprilia passa in testa a 24 punti, Santa Teresa a 22, Cerignola a 21. Isernia e Fiamma Torrese a quota 20. E un'ultima notizia relativa al calcio a 5, la selezione under 19 del Cus Molise nulla ha potuto al cospetto del Futsal fuori grotta che ha fatto valere la maggiore esperienza e la qualità dei suoi giocatori per portare a casa i primi tre punti del nuovo anno, 7 a 1 il finale, in favore dei partenopei. Con questa notizia si chiude la nostra edizione del telegiornale. Io vi ringrazio per essere stati come sempre in nostra compagnia e vi auguro un buon proseguimento di giornata sulla nostra rete. Arrivederci.